Il 3 e 4 novembre i commercialisti di Napoli Nord andranno al voto per rinnovare i vertici di categoria. Antonio Carboni, candidato per la lista rinnovamento e trasparenza, ci spiega i motivi della candidatura e i punti fondamentali del programma. Questa candidatura nasce fondamentalmente dalla propositiva esperienza che è nata insieme al sindacato, all'ANC Napoli Nord, un'esperienza che ha messo insieme una squadra di colleghi che hanno dimostrato di saper fare tanto con risorse molto scarse. Oggi questa esperienza si è concretizzata nella formazione di una lista, innanzitutto di una squadra di persone che vogliono profondamente modificare le logiche. Non vogliamo sicuramente prendere il posto dei consiglieri uscenti, noi vogliamo rinnovare le logiche di gestione della professione, siamo stanchi di non essere più tutelati, vogliamo profondamente riappropriarci della nostra professione e crediamo ancora fortemente che l'ordine possa essere in questo un volano per i commercialisti del territorio. Per noi l'ordine non deve essere un ordine di grandi dimensioni, noi non vogliamo un ordine che aspire a diventare il maggior ordine della campagna, il maggior ordine d'Italia, noi vogliamo un ordine che sappia e possa esprimere grandi professionalità, lo sappia fare attraverso i suoi iscritti, lo sappia fare attraverso i servizi che possono giungere a tutti gli iscritti da parte dell'ordine. Noi non dobbiamo chiedere nulla all'ordine, l'ordine deve in ogni maniera essere vicino ai propri iscritti, vicino nelle tutele, vicino nel restituire la dignità ai tanti professionisti che quotidianamente sono, noi diciamo, obberati da adempimenti sempre più inutili. Questo è il principio ispiratore, credo, che ha animato questo gruppo di persone, questa squadra che si è finalmente unita e riunita per portare avanti dei progetti sani, dei progetti concreti, immediatamente cantierabili. Siamo fortemente e fermamente convinti di poterlo fare, abbiamo l'entusiasmo, nella nostra squadra è stata creata con principi sani, all'interno abbiamo la rappresentanza femminile, tanti parlano di quote di genere, tanti parlano di pari opportunità, la nostra lista esprime due donne in posizioni eleggibili, la nostra lista si apre e si chiude con due donne, diamo espressione a tutti i territori e diamo espressione soprattutto alle varie professionalità che il Napoli Nord io dico riesce sempre a sapere esprimere. Questo è il concetto fondamentale che ha riunito questa squadra di persone e questo noi vogliamo portare avanti e far arrivare alla coscienza al cuore di tutti i colleghi di Napoli Nord.